Una madre fedele, una madre presente. Sono tanti gli appellativi che si possono affiancare al titolo di Maria, Madre di Dio e Madre del Dono, come la chiamano i volontari legati alla Federazione Fevos Santa Toscana. E lei infatti raffigurata in questa statua di legno, opera degli scultori di Ortisei, Flavio e Walter Panchieri, a cui è dedicato questo libro. Un libro opera di Alfredo Dal Corso e Franco Larocca, dove si racconta il pellegrinaggio in 23 tappe compiuto dalla statua della Madre del Dono nei luoghi di preghiera, di sofferenza e di speranza, a partire dal 2018, quando Papa Francesco la benedisse in piazza San Pietro. Il libro non era previsto, è stata una conseguenza poi. Il fatto di vedere dove questa statua è raccolta, il cuore popolare che si esprimeva davvero con grande fervore e si rivolgeva a lei come la mamma, soprattutto per affrontare delle situazioni di sofferenza. L'abbiamo visto negli ospedali dove è stata accolta, l'abbiamo visto nelle case di riposo, l'abbiamo visto anche in una parrocchia. Allora vuol dire che la fede non è morta, la fede è ancora un qualcosa che dobbiamo riscoprire. Probabilmente questo periodo così di crisi che stiamo vivendo ce la fa anche riscoprire. Il dono è riflesserci bene tutto il dono, dalla vita al fatto che noi in questo istante ci stiamo guardando e comprendiamo l'uno dell'altra, i sentimenti, i pensieri, gli affetti. Senza rendercene conto tendiamo a qualcosa che va al di là e che è il proprio dell'uomo, cioè la trascendenza. Questa Madonna è richiesta ancora, quindi proseguirà il pellegrinaggio al di là delle 23 tappe già fatte e raccontate nel libro? Certamente, è stata un'esperienza contagiosa perché altre città adesso ce la stanno chiedendo.